Allora, intanto buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie alla Regione Marche e al Comune di Falconara per l'invito. Per chi non ci conosce, CIMAS è un'azienda di ristorazione collettiva marchigiana che da circa 40 anni si occupa di ristorazione aziendale, scolastica, universitaria e sportiva. Siamo presenti anche nel Lazio, in Abruzzo, in Toscana e in Emilia Romagna, ma le Marche sono il cuore della CIMAS dove ogni giorno produciamo circa 6.000 pasti. Come rifezione scolastica nei comuni di Falconara, Chiaravalle, Serra dei Conti, vedo il sindaco, Chiaravalle, Senigalli e Urbani a Fossombrone e Folignano. Poi abbiamo anche delle menze universitarie nelle principali province, Ancona, Macerata, Fermo, Urbino e da circa due anni gestiamo anche la menza ai bar della Regione Marche nel capoluogo. Ogni tanto ci incontriamo, Assessore, con le mie colleghe. Ora però vorrei portare un attimo l'attenzione sul centro di cottura di Falconara Marittima che serve appunto i comuni di Falconara e Chiaravalle principalmente come rifezione scolastica. Ogni giorno, grazie ai nostri 50 collaboratori, serviamo circa 1.300 pasti, arrivando a 1.500 nei due giorni di rientro di due scuole di Falconara. Vi do alcuni numeri sulle scuole che serviamo, adesso vi ho detto 1.300-1.500 pasti. Chiaravalle ha due scuole dell'infanzia e Falconara ne ha sei. Chiaravalle ha due scuole primarie e Falconara ne ha cinque. Gli asili in totale sono quattro, tre sono di Falconara a Falconara e uno a Chiaravalle. E negli asili nido ci sono in tutti gli asili nido le cucine interne e quindi noi consegniamo solo le derrate alimentari che poi le cuoche cucinano in loco. Per entrare nel merito dell'appalto di Falconara, l'attuale appalto come prevedono anche i CAM, che sono i criteri ambientali minimi emanati dal Ministero, include l'utilizzo della quasi totalità di prodotti di origine biologica, ad esempio yogurt, frutta, latte, confettura, pane ed olio che sono poi utilizzati per le colazioni delle scuole dell'infanzia. Il pane e l'olio, oltre ad essere biologici, sono anche a chilometro zero, così come tantissimi altri prodotti che quotidianamente utilizziamo nelle nostre cucine. Il nostro territorio, come già detto nei precedenti interventi, offre un'ampia scelta di prodotti biologici, quali carne di vitello, legumi, dolci, farine, pasta di farro e formaggi. Per quanto concerne invece tutto il settore dell'ortofrutticolo, anche lì 100% biologico, la totalità dei prodotti sono 100% biologici, ma come tutti sappiamo siamo sempre più soggetti alla stagionalità che non rispetta più quello a cui eravamo abituati nel passato. E proprio di recente il nostro fornitore ci ha comunicato che, viste le alte temperature prolungate dei mesi scorsi, broccoli e cavolfiori biologici, che quindi adesso sarebbero previsti dai CAM, sono biologici e in questo caso anche addirittura i convenzionali, sono di difficile reperimento. Difficile reperimento anche perché quando parliamo dei nostri quantitativi di ordine, che sono programmati settimana prima per settimana dopo, non scendiamo mai sotto i 100 kg, soprattutto per comuni come Falconara, Chiaravalle, Senigallia, sono comuni che comunque richiedono un determinato quantitativo di merce. E quindi abbiamo un po' di difficoltà nel reperimento di questi prodotti. Per quello che riguarda fagiolini, piselli, biete e spinaci, anche qui 100% biologici, ma di origine surgelata. Per quanto riguarda i pelati, anche essi 100% biologici, in riferimento proprio al pelato biologico, quando nel 2019 abbiamo iniziato il servizio nel comune di Falconara, i primi mesi sono, passatemi il termine, stati un po' critici perché i bambini lamentavano come il pomodoro non avesse un sapore strano. Non erano infatti abituati al sapore lievemente più acidulo del pomodoro pelato biologico, in quanto in precedenza venivano comunque utilizzati dei pomodori pelati convenzionali. Quindi questo è un aneddoto riferito ai prodotti. Nell'augurarci di continuare questa profica collaborazione con la regione Marche, con il comune di Falconara, ringraziamo in particolare l'assessore Antonini per la grande attenzione rivolta al benessere della nostra regione e soprattutto ai prodotti del territorio a cui noi teniamo particolarmente. Raccogliamo le sue intenzioni ad ampliare i temi presentati nella proposta di legge e ci permettiamo di proporle, assessore, di estendere al mondo scolastico le giornate di formazione previste dall'articolo 6. perché è necessario rivolgere un'attenzione particolare al tema dell'educazione alimentare nelle scuole sensibilizzando tutti i soggetti coinvolti, bambini, insegnanti, personale scolastico e genitori. Questa criticità e necessità è emersa più volte nel corso delle riunioni delle commissioni mensi che nel comune di Falconara sono attente e regolari e insieme al fatto che nel corso del monitoraggio quotidiano degli scarti è evidente che nelle scuole dove i docenti sono presenti coinvolgono i bambini all'assaggio di nuovi sapori e nuove ricette lo scarto si riduce notevolmente. Io concludo ringraziandovi ancora una volta e poi al termine abbiamo preparato alcuni piatti con i prodotti che tutti i giorni appunto diamo ai bambini dalla casciotta d'Urbino con il miele biologico all'humus di ceci di un'azienda di Serravale del Chienti all'olio biologico Siccome abbiamo una slide perfetto eccola qui in modo che possiamo supportarci a vicenda orzotto alle piccole verdure humus di ceci arrosso di vitello finocchi aranci rollatine di frittata alle erbe duchessa di ricotta casciotta di urbino e miele tutto pensato dalla Cimas e dalla bravissima Giulia grazie grazie grazie